A causa del terremoto e della situazione di allerta conseguente al sisma è stato spostato a Frosinone mentre doveva tenersi a Rieti il tredicesimo forum internazionale dell'informazione per la salvaguardia della natura dove si parla proprio del rapporto tra uomo, natura e clima che cambia e territori che vanno tutelati. Quindi temi chiaramente strettamente connessi proprio fra loro soprattutto di cui si parla quando accadono tragedie come quelle del terremoto di cui vi stiamo ampiamente parlando. Allora Frosinone per questo forum internazionale si trova il nostro inviato Matteo Parlato con cui ci andiamo a collegare. Buongiorno la Frosinone, questo congresso internazionale è proprio partito dall'accordo di Parigi l'accordo di Parigi che è stato fermato un anno fa e che qui è stato iscritto come una casa molto bella ma una casa vuota. Perché? Perché l'accordo di Parigi in buona sostanza ci dice che cosa dovremmo fare nel 2020 come dovremmo agire nel nostro prossimo futuro ed è chiaro che in questo intervallo di tempo gli elementi del cambiamento climatico non si fermano, non ci aspettano e anzi aumentano la loro accelerazione aumentando quindi gli elementi di vulnerabilità delle condizioni di vita sulla Terra così come le conosciamo adesso. E poi sempre qui si è detto che contro l'accordo di Parigi che vi ricordo l'accordo di Parigi prevede nelle sue intenzioni di contenere l'aumento della temperatura per la fine del secolo di soli 2 gradi. Dico solo 2 gradi perché sembra poco ma provate a immaginare voi che cosa vi succede quando la vostra temperatura passa da 36 a 38 gradi. Ecco stavo dicendo che qui è stato segnalato che ci sono degli oppositori a questi accordi che sono proprio gli interessi economici, commerciali, industriali e quindi non si può delegare la vigilanza del rispetto di questi accordi. Non si può lasciare soltanto agli stati il controllo. C'è stata proprio una chiamata, potremmo dire una chiamata alle armi per un controllo dal basso per quello che loro chiamano le sentinelle del clima. Ma adesso vorrei passare da un discorso globale a uno un po' più particolare, uno che ci riguarda proprio di persona, riguarda noi e tutta quell'altra quota di umanità che si affaccia sul bacino del Mediterraneo. Perché qui appunto è stato presentato uno studio, uno studio molto recente, che ci riguarda proprio. Sentiamo l'intervista e poi linea allo studio. Lei è il direttore del Centro Euro Mediterraneo per i cambiamenti climatici. Fino a oggi pensavamo che il Mediterraneo fosse immune a questi grandi cambiamenti. Invece lei qui ha portato uno studio che dice il contrario. Sì, in effetti il bacino del Mediterraneo è una delle zone sensibili per il riscaldamento globale del pianeta e quindi noi prevediamo addirittura che anche con un riscaldamento di due gradi centigradi, che è quello dell'Accordo di Parigi, avremo comunque una perdita per esempio per l'agricoltura del 20%. Senta, qui l'impressione che si ha da questo convegno è che siamo capaci a invertire la rotta sui cambiamenti climatici, però forse non vogliamo farlo, almeno noi con questa determinazione. Beh, diciamo che è poca la percezione dell'accelerazione che sta avendo il pianeta, l'atmosfera, quindi è necessario agire subito. Questa percezione forse ancora la politica non l'ha presa proprio del tutto. Quindi ci vuole una forte volontà per dire da oggi immediatamente uscire dai combustibili fossili verso una nuova società.